Ciao a tutti ragazzi Allora sono vero 91 Sono andata al supermercato E ho visto crema novi Scusate E volevo mangiarmene Un po' che volevo assaggiare Dicendo anche il voto Allora Non è solido né liquido Così è Si presenta Allora 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 E' buonissimo Mi piace un casino E' buonissimo E' buonissimo Devo ancora pranzare Allora Allora Sì Basta Noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao